fra numerose strade o soluzioni e scegliere una delle cose più difficili che l'uomo sia chiamato a fare. Ma tale compito sarà tanto più lieve quanto più il magistrato avvertirà con umiltà le proprie debolezze, quanto qui si ripresenterà ogni volta alla società disposto e proteso a comprendere l'uomo che ha di fronte. Compito del magistrato non deve quindi essere solo quello di rendere concreto il comando astratto della legge, ma anche di dare alla legge un'anima. E solo se il giudice realizza in se stesso questa condizione, come le altre ricordate, in particolare quella dell'indipendenza, la società può accettare che egli abbia sugli altri un potere così grande come quello che ha.